C'è un poliziotto C'è un poliziotto praticamente Gli hanno rubato i soldi dalla banca E signor maialino Non ci credi Signor maialino cos'hai combinato Non ho parole è bellissimo È bellissimo Sono un pirata ancora più bello di prima No ma stai benissimo vestito Grazie Stai davvero benissimo Grazie E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E questo è il video che è Marovlo E come i più attenti di voi avranno già notato Dalle nostre bustine che abbiamo in mano Oggi giocheremo a dolcetto scherzetto Esattamente Lo so che ancora non è Halloween E che manca un po' di tempo Però abbiamo visto la mappa tra le più popolari E non abbiamo resistito No ragazzi io ve lo dico già Noi adoriamo le feste Quindi sia per Halloween Per Natale Per tutto quello che ci sarà Faremo sempre dei giorni speciali Esatto So che per questa magari è un po' presto Ma non abbiamo resistito Perché è davvero carinissima Esattamente Infatti vi iniziamo già a dire che A fine ottobre faremo un evento speciale Che magari durerà circa tre giorni Dove tutti i video saranno a tema Halloween Quindi preparatevi perché sarà davvero epico Però oggi siamo in questa mappa Come funziona? Allora davanti a noi abbiamo una schiera di villette Dove possiamo andare a torturare i poveri abitanti E fargli dolcetto scherzetto Loro ci daranno delle caramelle E con quelle caramelle si va proprio un vero e proprio contrabando Addirittura Se tu praticamente trovi delle persone Che vogliono a tutti i costi mangiare caramelle Le ne vendi E con i soldi che fai da quelle caramelle Ti puoi comprare costumi Animaletti Veicoli Potrei essere io Darmi caramelle Ti darei tutti i soldi che vuoi Allora ti posso offrire 82 caramelle Quanto mi paghi? Un euro No E sono un po' tirchia Scusa Voglio guadagnarci dal prendere le caramelle Ci ho messo un sacco a prendere queste caramelle Comunque Comunque Ci tengo anche a dire Che oltre al classico dolcetto scherzetto Quindi andare a giocare nelle porte degli abitanti Ok Ci sono anche delle missioni particolari Ovvero Dovremmo trovare degli oggetti Che appunto ci chiedono In mezzo alla mappa E anche quelli ci danno delle caramelle extra Oh mio dio Questo qua è fantastico Oh mio dio Sei fantastico È uno dei costumi che puoi comprare Li vedremo dopo Comunque sì Allora Iniziamo a fare un po' di dolcetti e scherzetti Dopodiché Andiamo a prenderci qualche missione E cerchiamo di completarla Ovviamente Noviate un po' Quando finiamo una missione Ci danno altre caramelle Perché tutto si basa sulle caramelle Come giusto che sia Sarebbe un mondo più giusto Altro che i soldi Gli euro Tutte queste cose Caramelle per tutti Caramelle per tutti Allora vediamo qua Vediamo che succede Salve Ha una bella pettinatura lei Da me non è uscita dalla porta E mi ha lanciato caramelle per terra No io lo vedo Io lo vedo Non so perché Sì la cosa fantastica ragazzi È che in questo villaggio Ti tirano le caramelle in faccia Proprio letteralmente Te le tirano così Oh è uscita adesso in ritardo Tu te le devi raccattare da terra Però è fantastico Perché è più divertente Capito Lo fa una fossa Le devi cercare Quante caramelle mi dà lei signore Allora Magari ti fa un brutto scherzo No Una No nessuno mi fa una scherzo Perché è un costume Carinissimo Anche se ancora non un costume Perché io sono un pirata No ma il pirata dai Non è per Halloween Il pirata è per carnevale Ascoltami Il pirata è per carnevale Sono un pirata tenebroso io Guardami Guarda come faccio paura Allora Allora Non faresti paura davvero A nessuno A nessuno proprio Neanche a quelli spaventosi È gelosa No 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 È gelosa È gelosa Perché si sente fuori luogo In questo contesto di Halloween Perché non ha un costume Allora innanzitutto Se proprio vogliamo parlare di cose a tema Signor Maielino è molto più a tema di te Ma tu non lo sei Perché signor Maielino Non c'entra niente Io ce l'ho nella spalla E lui fa Capito Fa per tutti Fa per tutti Sì 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 Ho capito Guarda questo fantasmino che sbuca Dalla casetta Oh che carino E questo infatti vedi un oggetto per una quest Che al momento non abbiamo Però sì sono oggetti Che si trovano così In giro nella mappa Ne abbiamo trovato un altro Allora È un signor gatto questo Ma l'hai visto che ha la camicia Con la cravata È molto carino Molto professionale come venditore Davvero molto professionale Allora Io le offro 60 caramelle Per 30 dollari Guardate Ti devo dire una cosa Sì Me le sono mangiate tutte Non ne ho neanche una da vendere Tipo ne ho cinque Ma no Ma dovevi venderle Eh ma sai cos'è successo Allora Non voglio fare la parte dell'ingorda Ok Praticamente tu non l'hai detto Ma questa barra dell'energia Che abbiamo qui sotto Si Si consuma Quindi le ho dovute mangiare Per avere di nuovo energia Per poter girare nella città Ah quindi non è colpa tua No Le ho mangiate tutte Ok Mi dispiace Va bene Dicevo Allora In basso a sinistra 33 caramelle In basso a destra 35 dollari Non è nove Andiamo A prendere qualche missione Per vedere Dove sono le missioni Clicchiamo map Ci si apre questa bella mappina Che potete vedere Oh ma ce n'è una anche qua Vieni vieni Non l'hai vista? Ah C'è qua uno scheletrino Allora Salve scheletrino Cosa ci dice? Ah Ok Ah poverino Praticamente dice che ha perso Tutte le sue ossa E quindi ci sta chiedendo Di ritrovarla In compenso ci darà 25 caramelle 25 caramelle È fatto? L'hai accettata? Sì l'ho accettata A me non compare La cosa della missione Quindi sicuramente anche le ossa Vanno cercate bene Ossa dove siete? Osha Eccone uno Eccone uno Guardalo Lo vedi? Brava Prendilo Prendilo Allora Quest item Io lo sto cliccando Ok Preto Te l'ho dato? Sì Ok lo do anche a me Lo do anche a me Non ero sicura Quindi te l'ho lasciato Guarda che gentile Se noi andiamo sul menu Vediamo la barra Aumentare E un osso su quattro Oh che carino Sono felice di aiutarlo Perché era davvero dolcissimo Quindi sono proprio felice Se l'hai presa a cuore? Sì perché poverino Ha perso le braccia e le gambe Ma tu pensa Povero scheletrino Può capitare Soprattutto se sei scheletro Soprattutto se sei solo ossa Capito? Trovato 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 Qua c'è un piede Bello Carinissimo Credo c'è un piede Anche secondo me Sì è la gamba Oh che carino Ok Due su quattro Davvero carino Ecco qua l'ultima Era proprio nascosta Dal centro città E noi continuavamo a cercare Nelle villette Esatto E invece Era in mezzo alla città Finalmente Non lo fa prendere No ecco Andata andata Finita Finita Andiamo dal nostro scheletrino A dargli la buona notizia Che abbiamo trovato Tutte le sue ossa E ci ripagherà Con quant'erano? 25 25 caramelle come ricompensa Sto saltando dalla gioia Non so se mi hai visto Sì infatti Sto il tono anche io da qui Bellissimo Finalmente caramelle Allora Oh mio dio Grazie per aver trovato Tutte le mie ossa Questo è la tua ricompensa Ok E me le da direte Ok Ok 25 caramelle per me Bello Bello E me le inizio un po' a manzare Perché sono un pochettino stanco Sì abbiamo corso tanto Per trovare le tue ossa Scheletrino Davvero tantissimo Allora Io voglio fare La missione Quale facciamo? Del vampiro È tristissimo Poverino Che ti è successo? Allora Dice che praticamente Mettono l'aglio nelle case E che quindi lui non può divertirsi Capito? Oh poverino No ma anche lui vorrebbe fare dolciote Scherzetto Non glielo fanno fare Comunque anche lui 25 caramelle di ricompensa Ok Mentre andremo in giro Cercheremo il suo aglio Quattro cose di aglio Allora questa volta voglio provare ad accettare Più di una missione alla volta Please help me I can't find my friends Quindi per favore Aiutami Non riesco a trovare i miei amici Oh poverino Hanno tutti un po' di problemi ad Halloween Sembrano tutti cattivi Ma in realtà vorrebbero tutti giocare E fare dolciote Esatto 25 caramelle anche questa E infatti dobbiamo trovare 6 zucche Quindi adesso cerchiamo le zucche E l'aglio Allo stesso tempo Ok perfetto Dopodiché l'obiettivo sarà Comprarci finalmente Un costume Ma assolutamente sì O una in mio maletto Eh non lo so Sarà difficilissimo scegliere Sarà davvero difficile Ma puoi cambiare pure la borsa Oh non ci credo C'è un poliziotto C'è un poliziotto C'è un poliziotto praticamente Gli hanno rubato i soldi dalla banca E signor Maialino Non ci credo Signor Maialino Cos'è combinato Cos'è combinato Ha rubato i soldi Io non ci credo Ha rubato i soldi Questo sai perché Io lo so Ti ricordi quando abbiamo giocato a Bank Tecun Ok Che lui ha chiesto i soldi per la casa E non gli sono stati dati Non gli sono stati dati E quindi ha deciso di entrare in questa mappa E di rubare i soldi Ok Allora Seguimi Allora ok poliziotto Quello che io ho nella spalla Non è signor Maialino È solo un costume Non è lui Che ha rubato le cose Sì è proprio Con l'occhiolino così Non è lui Si è travestito Da appunto il famigerato Signor Maialino Che ruba Che ha rubato la banca Eh vabbè Aveva ragione Nessuno gli ha dato i soldi per la casa Io sinceramente Venga venga Gli do ragione Allora Ti vedo laggare Io sono quasi sicuro Dimmi Di sapere dove è signor Maialino nascosto Ma davvero Ne sono praticamente certo Ma davvero Perché prima mi è sembrato di averne visto uno nascosto Quindi secondo me te lo trovo subito Ecco una giuca Dove? Questa Ah non l'avevo notata Eh lo so Mi aveva fregato Non avevo notato la faccina Allora Bellissima È perché credo che tanto se li metti il cursore sopra Ti dice Esatto Però dobbiamo controllare anche per il povero vampiro Vedi stiamo pensando solo alle tucche Allora facciamo così Io ne approfitto per fare un pochettino di case Soprattutto perché sono senza caramelle E tra un po' non posso più correre Così controllo Ok Soprattutto anche l'aglio E ne approfitto per fare la missione del vampiro Io che invece sono tranquillo Controllo un pochettino già nel perimetro Perfetto E cerco di vedere dove ci sono nascosti Ma forse vado a vedere direttamente Se ricordo esattamente dove è signor Maialino Perché sono quasi certo di sapere dov'è E non so se hai visto quanto paga la missione No non l'ho visto Non l'hai letto? No perché mi sono scioccata Non appena ho visto quello che ha combinato signor Maialino Non lo sai quanto paga quella missione? No non lo so 200 dollari E' la proprio combinata grossa signor Maialino Io te lo dico la davvero combinata grossa Facciamo finta di nulla Venga da me Ho trovato un cosa dell'aglio 4 zucche e una collana d'aglio Quindi ci mancano 3 collane e 2 zucche Ah le zucche sono 6? Sì Ok 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 Ora ti faccio vedere una cosa Cosa? Perché io ho già visto signor Maialino ma non te l'ho detto Cosa? Dov'è? Eccolo! Furbacchio Guarda come si è travestito da Halloween Io apprezzo davvero il suo travestimento Guardalo che bello che è Cioè c'è fantastico E' già pronto per la prigione però comunque Si è vestito proprio da bandito Si è vestito da bandito È fantastico Ha davvero tanta inventiva signor Maialino Ok l'hai cliccato? Sì Quanti ne dobbiamo trovare? Uno Credo Solo uno? Spero O più di uno? Secondo me più di uno Ah no Io pensavo fosse facile Invece sono 6 E saranno tutti nascosti come lui Eh signor Maialino ha trovato praticamente tutti i suoi amichetti Gli ha fatti vestire da lui per confondere Capito? Dal reale colpevole di questa rapina Ma sarà difficilissimo E beh scusami Qua c'è una cosa Mi sembrava strano che fosse solo uno Contando che paga così tanto Era davvero strano Quindi è normale che non dobbiamo trovare C'è un'altra collana di vampiro Io ne ho fatto un dolcetto scherzetto Che non mi danno caramelle da troppo tempo Non so se è un bug Però finendo questa missione Delle 100 case visitate Sì ho ne erratto parecchio Eh O 1000 dollari Non riesci neanche a dirlo dall'emozione Non riesci neanche a dire 1000 dollari Ma secondo me non è un bug Cioè 100 case alla fine sono tante Quindi è anche giusto che ti dia un bel premio Altrimenti ci metti una vita a comprarti le cose Perché costa tutto davvero tanto Sì ma 1000 Posso fare shopping? Ti hanno dato Ti hanno dato Tutte Cioè tutti quei soldi Non ti lamentare Allora Guarda quello da strega Che bello Vieni qua Ma c'è quello da spiderman Vieni dentro Guarda 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 Adesso chiedi scusa Ma questo è più bello del tuo Anche perché guarda Ha le ossa Quindi è molto più macabro È molto più macabro Mi dispiace No però Allora come vediamo i prezzi dei costumi Parlando con lei Parlando con la signora qui alla cassa Allora C'è quello da zucca 25 E te lo compri Poi Vabbè La strega La strega è troppo carino È davvero troppo carino Come questo BTS di 4 armor Che non so cosa sia Allora Ah sono indecisissima Allora c'è anche quello da principessa Che è davvero carino Ma non lo vedo Sinceramente è molto adatto a Halloween Capito? Come mi indoscia il mio costume? L'hai comprato? Sì E non lascia Il mio costume! Ah Devo andare nella No non hai capito Nel camerino? Oh mamma mia che bello Aspetta Voglio vedere come ti vesti Metti wear Non ho parole È bellissimo È bellissimo Sono un pirata ancora più bello di prima No ma stai benissimo vestito Grazie Stai davvero benissimo Grazie Stai davvero benissimo Però non c'è più il Capitan Jeff E lo sciò notato Purtroppo Allora io sono indecisa Sì Allora tu quanto l'hai pagato il tuo? Quanto sei riuscito ad avere? L'ho pagato tipo a 300 Io volevo quello da strega Perché secondo me è fantastico Beh ti basta finire di visitare le mille case E hai risolto Eh lo so Eh ma non so quanto me ne mancano Sicuramente non so a quanto sono Quindi Non so quanto ci vorrà Capito? Ho fatto un'altra spesa Ok No non ci credo Il monopattino è bellissimo Guardami È bellissimo Sono un pirata che vengono il monopattino Ma così non consumo la fatica Hai finito le 100 case? Sì Quindi andiamo a comprarmi subito il costume Sciubito 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 Quindi qual è deciso? Eh quello da strega Quello da strega voglio quello Sì 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 Mi sembra adattissimo per Halloween Guarda Perfetto proprio Io vado sempre in giro con questo Perché almeno non consumo la fame Ho l'energia Anche se poi davvero Quello da unicorno Mi sta davvero tentando Ti dico la verità Eh io l'ho visto in giro eh Lo sai? È bellino È È davvero bellino Dai preferisco quello da strega Perché ripeto Mi sembra adattissimo per Halloween Allora cambiamo costume È un peccato che non si possono provare I costumi anche senza averli Oh mamma mia Oh mamma mia guardami È carinissimo È troppo bellino Dai ma scherzi È troppo bellino Allora Sì E visto che mi hai detto che col veicolo Si consuma meno energia O non se ne consuma del tutto Non mi ricordo Ok Voglio comprarmi anche un veicolo Sì ma comprati la Vespa Perché a te esce Davvero? Sì Allora fai vedere Oh che bella Sì che la voglio Voglio assolutamente la Vespa Allora adesso dove la prendo? Da qui? No 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 Hai il tastino che è il secondo Quindi sotto il punto di domanda Ah eccolo ok ok perfetto Oh mamma mia Ciao Sono perfetta Sono perfetta nella Vespa Che è il mio motorino Preferito in assoluto Il costume da strega Che mi piace tantissimo Sono troppo felice È fantastica questa mappa È davvero davvero fantastica Comunque ragazzi Ci fermiamo così per questo video Ci sono ancora tantissime missioni Che potremo fare Quindi Se vi piace la mappa Facciamo un secondo video Appunto quando saremo vicinissimi Ad Halloween Così sarà una dei video a tema Dove magari ci prepariamo Tantissime caramelle E cerchiamo di finire Tutte le missioni E anche di shoppare Un sacco di roba bellissima Perché questa mappa È davvero fantastica Con le cose Che si possono comprare Assolutamente Quindi se vi piace la mappa Lasciateci tanti likes Ovviamente valuteremo tutto E decideremo Se portare una seconda parte Nel periodo di Halloween Beh ragazzi Vi è piaciuto così Sui città Lasciateci un bel like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao